di musica, ci conosciamo con parecchi di voi, insomma ci siamo visti tante volte. Stasera abbiamo il piacere di presentare delle classi della nostra scuola, avrete modo di vedere i vostri ragazzi di tutto quello che hanno imparato e che hanno fatto durante l'anno accademico 2014-2015, accompagnati alcuni dai loro docenti, altri al pianoforte, dal maestro Cannizzaro e dalla docente di pianoforte Valentina Grisafi. Stasera abbiamo il piacere per quanto riguarda la presentazione, insomma la mia attenzione non è perfetta, io l'ho sempre detto, anche il mio inglese non è perfetto, invece abbiamo un'ottima presentatrice che è di professione ma pure l'avvocato, però si diletta a fare queste cose nonché mamma di Gabriele Spagnolo, lei è Emanuela Barrica, va bene? Quindi già ho saputo che hai presentato alla Guardiola, insomma è stato un piacere averti con noi, io dico sempre che la presentatrice deve essere proprio perfetta e lei lo è, facciamo un applauso a Manuela. Allora mi sono persa il nostro direttore, il maestro Cannizzaro, i primi ragazzi che dovrebbero esibirsi, chi sono? Manuela? Cominciamo con la classe di clarinetto del professore Nuzio Mancuso, c'è il professore eventualmente se vuole introdurla. Allora la classe del maestro lo vedo qui davanti, la fatti vedere perché quest'anno un nuovo acquisto della scuola civica di musica diventa di avere 200 ragazzini di talento e poi io penso una cosa Nuzio, lui mi chiama signora Rita e mi fa sentire vecchia, io lo chiamo soltanto Nuzio, dico io penso che i ragazzi avendo voi che siete così giovani, cioè riescono a dare di più, nulla togliendo a qualcuno che ha insomma i capelli bianchi. Allora lui è Nuzio Mancuso, da quest'anno uno dei nostri docenti della classe di clarinetto con il maestro Sicilia che già ha dato e hanno fatto il saggio su da noi. Puoi dire qualche cosa? I due ragazzi? No, la c'è la donna da loro. Va bene, allora la classe del maestro, man mano li chiameremo e buona serata. Passo la parola a te. Buonasera a tutti, come già anticipato da Rita, siamo qui presenti per il saggi di fine anno dell'anno accademico 2014-2015 nella scuola civica di musica di Piraino. Un applauso va al direttore di questa scuola che si prodiga tantissimo nell'attività, il professore Danio Artaro Giuseppe e a tutti naturalmente i docenti. Vi ricordiamo che i saggi comprendono la classe di clarinetto del professore Nuzio Mancuso, la classe di chitarra del professor Andrea Salvo, la classe di flauto del professore Luigi Sollima, la classe di violino della professoressa Angelina Pintaudi e la classe di violoncello del professor Ivan Cattaneo. Quindi un applauso ai professori Eri. Iniziamo subito con la classe di clarinetto del professore Nuzio Mancuso che vi abbiamo appena presentato. Il primo brano porta il titolo dei Flintstones al clarinetto Placido Trigona. Grazie. Grazie a Placido Trigona. e adesso è la volta di un duetto. Il brano è di Magnani, clarinetti, Antonino Lopresti, Nuzio Mancuso. Grazie. 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 Grazie a tutti 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 Grazie a tutti